Correva l'anno 1985 e il comune di Lecco e le allora ferrovie dello Stato concordarono una permuta. Alle ferrovie sarebbe finita un'area del comune nel quartiere di Maggianico, quella dove oggi sorge l'interscambio. I cittadini lecchesi avrebbero invece ottenuto l'ex piccola velocità, l'area compresa fra via Mendola e via Ghislanzoni. Da allora oggi la permuta è incompiuta. Le ferrovie hanno ottenuto l'area Maggianico e ci hanno costruito l'interscambio. Il comune non ha ancora invece ottenuto la proprietà della piccola. La cosa non è di poco conto, sebbene ci sia un parcheggio pubblico e due volte alla settimana venga ospitato il mercato cittadino, la piccola è un angolo di degrado in centro. Perché? Perché in buona sostanza è ancora terra di nessuno. Complice la suddivisione delle vecchie ferrovie in diverse società, ora la piccola è di competenza di due soggetti, diversi persino da RFI, la società oggi proprietaria dello scalo di Maggianico. In questo quadro, da decenni in vano, le amministrazioni comunali stanno cercando di concludere quella permuta siglata nel 1985. Ma oltre agli anni e alle perizie economiche sul valore dell'area, bisogna ora trovare una soluzione anche al puzzle delle società ferroviarie. Al comune di Lecco è stato dunque proposto di annullare per così dire la permuta e procedere in maniera diversa, ovvero con una compravendita. Nella sostanza cambia poco o nulla, ma con questa soluzione, forse dopo oltre 30 anni, si può chiudere finalmente questa partita. L'ipotesi, spiega il primo cittadino, Virginio Brivo, ci è stata proposta dalle società coinvolte a 100 metri di distanza dal traguardo. È una strada che va valutata con attenzione e che condivideremo con le forze politiche e con il Consiglio Comunale. Abbiamo già chiesto tutte le garanzie del caso e quando avremo il quadro completo ne discuteremo in Consiglio Comunale. Non sarà certo una decisione che prenderà il Sindaco di nascosto.